Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Sostanzialmente ancora il giornale unico del virus e la scuola in cerca di autore. Mettiamola così, la scuola ormai il 14 settembre dovrebbe riaprire quindi bisogna capire come muoversi. Partiamo dalla scuola e su questo tema ci sono due fronti interessanti. Il primo è quello che alcuni sostengono e cioè che Lazzolina, il ministro della pubblica istruzione, sarebbe stata commissariata da Conte. A pochi giorni di distanza, cioè ieri, ci sarebbe stata una cosiddetta cabina di regia in cui ha detto, bella, mo ci pensiamo noi a vedere come funziona la scuola perché è troppo importante che essa riparta. Quindi la cabina di regia a Palazzo Chigi dovrebbe occuparsi di alcuni temi fondamentali. Uno su tutti, toc toc, doppio. Cosa ci si è resi conto? Che noi abbiamo speso 3 miliardi di euro, spiega il Corriere della Sera, per dei banchi che non arriveranno in tempo e i banchi servono per distanziare le persone e questi si accorgono che però le persone devono andare anche a scuola e cioè non sempre c'è l'autista chauffeur che ti porta a scuola. Qualche volta ci sono degli autobus, ci sono i mezzi pubblici e anche ci sono degli autobus della scuola. Bene, in quelli è necessario e obbligatorio la distanza di un metro. Scoppia il caso degli autobus titolo al quotidiano nazionale perché questi hanno fatto miliardi di investimenti sui banchi e non hanno pensato che però sui banchi ci si deve arrivare e in qualche maniera non ci sono sempre gli autisti di Conte a portarci a scuola. Interessante l'intervista al professore Andreoni, mi sembra di Tor Vergata a Roma, che dice le regole che stanno mettendo, dice fa anche una giusta analisi, cioè è molto facile criticare, poi è difficile entrare nella pratica, però le regole che stanno mettendo sono corrette in linea teorica, dice Andreoni, ma nella realtà ma veramente voi pensate che i bambini di 6 e di 7 anni possano rimanere per 5, 6, 7 ore con le mascherine indosso? Ma chi ci crede? Dice il professor Andreoni. Bene, non vorrei fare come sulle discoteche, aggiunge il professor Andreoni, che tu dici che possono riaprire, poi dopo le fai chiudere perché ti accorgi immediatamente che non si può ballare in discoteca. Questo tipo di grande bolla di ipocrisia che da una parte rende tutto drammatico e dall'altra rende tutto quanto giusto sulla carta è tipico del sistema italiano. Sul virus, ovviamente il giornale unico del virus ci vuole impressionare, c'è una lettera impressionante della ragazza Francesca, di Martina, che dice in prima pagina sul Corriere della Sera, ah io sono andato in discoteca perché non volevo andarci, però poi ci sono andata perché era una festa di un mio amico, come facevano ad andarci, poi sono tornato a casa, ho contagiato papà e mi sento in grande colpa. E questo è il tema fondamentale del Corriere della Sera, una bambina, una ragazza che infetta il padre che poi si sente in grande colpa, perché dietro a questa lettera c'è tutto il mondo della terrore che abbiamo nei confronti del virus, perché non potendo dire che il virus fa male ai ragazzi di 20-25 anni perché nel 99,9% dei casi non hanno neanche sintomi, beh si deve dire che questa roba qui, il che ovviamente è vero, può contagiare persone più anziane che si possono infettare. Questa cosa vale per molte malattie e vale anche per questa malattia, però drammatizzare oggi è fondamentale, perché se tu rendi tutto drammatico ovviamente puoi accettare tutto quello che noi oggi stiamo accettando e in prima pagina ci accorgiamo che è volte positivo al virus, il che vuol dire nulla, perché puoi essere positivo non all'AIDS, a un virus che nel 99% dei casi oggi è asintomatico. Poi dopo però che cosa succede? Che la ragazzina di 24 anni che ieri è morta per un mix di droga e alcol in discoteca nel Bresciano, beh non fa una grande notizia, è morta 24 anni, quello non è un problema, i ragazzini che sono un altro giorno morti per strada perché hanno fatto un incidente in macchina perché embriachi, non fanno grande storia, i ragazzi che sono morti in queste ore, uno col denta plano, l'altro perché voleva farsi il tuffo nel torrente, non fanno grande notizia, perché ovviamente quelli non sono contagiosi, si fa per dire, perché la droga di fatto è un po' contagiosa nel suo utilizzo, però capisco che dire queste cose, cioè cercare di mettere semplicemente nella giusta luce i rischi che noi oggi corriamo, rendono la cosa ovviamente da negazionista, perché quelli che criticano il governo e l'idea che ci sia un decreto per l'emergenza, tipo Cassese, vengono definiti negazionisti. Noi non neghiamo nulla, ci mettiamo semplicemente in discussione che forse potremmo avere un atteggiamento un po' più ponderato, un po' più normale, ma questo lasciamolo perdere. L'infettivologo Mastroianni, intervistato dal Fatto Quotidiano, che ha ben titolo uno oggi dei capisaldi per sostenere questo governo della drammatizzazione del virus, dice settimana decisiva, rischiamo 4.000 casi. Mi ricorda la settimana decisiva di qualche mese fa del lockdown, quelle settimane decisive che ci avrebbero dovuto raggiungere, non ci hanno mai raggiunto, mi ricorda quella previsione del comitato tecnico-scientifico pubblicata da tutti i giornali per cui a giugno ci sarebbero state 150.000 terapie intensive, 150.000, sono 69 oggi le terapie intensive. Lo ricorda oggi anche il Foglio Quotidiano, il più grande supporter di questo governo, e Cerasa dice il cretinismo di chi finge che il problema non ci sia, non so chi è che finga che il problema non ci sia, e il cretinismo di chi finge che i problemi siano distennati a tornare come prima. Allora io vi chiedo, voi che seguite questa zuppa, secondo voi il cretinismo maggiore qual è? Di quelli che dicono che non c'è il virus? Nessuno, perché da me sgarbi, Tarro, cioè i peggiori, gli orrendi. Ieri ho sentito, mi hanno dato un messaggio una mia amica, ma giustamente, ma Tarro diceva che il virus sarebbe più o meno indebolito o scomparso col caldo. Ieri, nell'intervista che ho letto dal grandissimo Mantovani, il super esperto, il super premiato che nessuno mette in discussione, una pagina intera di Corriere, cosa ha detto Mantovani? Beh, insomma, le polmoniti si sa che d'estate perdono di carica virale sono meno gravi, cioè oggi i super chic dicono quello per cui i negazionisti considerati tali di ieri come Tarro venivano sbertucciati. E così è la vita, cioè bisogna semplicemente drammatizzare perché in questo modo il governo può fare esattamente i cavoli suoi. Volt positivo al virus. Nel frattempo la questione immigrazione assume un lato serio sull'avvenire e c'altronesco su come viene trattato Musumeci, perché l'avvenire dice una scia di morte. Nello Scavo, che segue per l'avvenire da sempre, su posizioni completamente diverse rispetto a quelle che alcuni di noi hanno, cioè l'idea del Puff Factory, il fatto di essere attrattivi, l'accoglienza completa che loro vogliono, però dal loro punto di vista li posso anche capire. Ma Nello Scavo parla di tre, quattro stragi di Ferragosto di cui soltanto l'avvenire se ne occupa e se la prende con Musumeci. Vabbè, ma questo non è il punto che se la prende con Musumeci. Io vi chiedo, ma se queste stragi nel mare fossero avvenite col cattivo Salvini, già avremmo avuto le foto dei bambini, avremmo avuto i pezzi strazianti. Certo che ne abbiamo avuti, oggi non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo sull'avvenire che almeno in coerenza lo faceva ieri come lo fa oggi. Cioè attacca non solo avvenire Salvini, attacca tutti coloro che non vogliono l'accoglienza, ma siccome oggi c'è la Morgese e sono aumentati gli sbarchi, quello che alcuni di noi sostengono, se tu triplichi gli sbarchi purtroppo triplichi in numero assoluto anche i morti, ma non è così. Stragi in mare, reazione, è una reazione alla ripresa dei flussi, qualcuno potrebbe parlarne, ma nessuno non ne parla tranne l'avvenire. Però tutti mettono in croce Musumeci. Musumeci ieri, dato i numeri, ha detto che in Sicilia ieri ci sono stati 68 nuovi positivi, soltanto a Lampedusa ce ne sono 58 nei centri immigrazione. Ma la cosa stupenda è che se la prendono con Musumeci perché dice una cosa molto banale, cioè dice ragazzi ma se voi mi fate venire tutta sta gente e non la controlliamo, ma ragazzi avrò qualche problema io. Ma comunque Musumeci oggi è considerato una specie alla stregua del fascista. Io sto con Musumeci, dice qualcuno di voi. Qua non è che si deve stare con Musumeci, si sta col buon senso, non è possibile che il Covid diventi un problema nazionale da decreto di emergenza e quel decreto di emergenza però non valga quando si trova in un'isola in cui arrivano immigrati con il Covid. Boh, non lo so, io penso che l'emergenza per il Covid sia da rendere meno importante di quella che credono, ma se è così forte non capisco perché non valga anche per la Sicilia. Fantastico poi il fatto quotidiano che continua sui furbetti del bonus dei 600 euro. No, beh sono usciti tutti, glielo comunico a quelli del fatto, nonostante le loro raccolte di firme, di 70.000 firme, vogliamo sapere chi sono i nomi. Ma sono tutti usciti, ci sarà qualche politico locale che fa il consigliere comunale che prende 200 euro al mese ma non riesca a capire qual è lo scandalo. Lo scandalo sapete qual è? Che sul fatto quotidiano il signor Carlo Calenda, che fa politica, si è fatto finanziare come è normale, in maniera trasparente da alcuni imprenditori e anche da alcuni cittadini normali. Gli Arvedi, i Rocca, i Serra, i Cremonini, tutte le persone per bene che fanno di questo paese e assumono un botto di gente. E allora, per siccome hanno finanziato Calenda e Calenda ha reso trasparenti queste cose, il titolo del fatto quotidiano è Calenda in cassa dai poteri forti. Avete capito il concetto? Questi vogliono la trasparenza per farvi un culo così, così come volevano i dati dell'Inps perché vorrebbero che tutti quanti noi DDR, proprio l'idea grillo fascista, grillo comunista DDR, potessimo tutti quanti essere ricattati. Nel frattempo l'unica cosa che succede è che uno si ammazza perché teme il lockdown, ma anche su questo il tema ovviamente i giornaloni non lo trattano, tranne il giornale che è il tempo che titolano su quell'imprenditore giovane nel centro di Firenze che si ammazza perché apre prima del lockdown il ristorante storico e la città è scioccata perché quest'uomo si è ammazzato e non ha retto a rischio imprenditoriale. Ma sapete quante persone si trovano nella merda oggi dal punto di vista economico e finanziario perché i debiti servono a poco se non c'è il mercato? Questo bisognerebbe spiegarlo ai nostri politici che la capiscono fino a certo punto. Gualtieri tutto contento abbiamo ricevuto 27,7 miliardi del fondo SURE, cioè il fondo che serve a pagare la disoccupazione, la cassa integrazione. C'è un piccolo dettaglio, è vero che abbiamo preso 7 miliardi in più di quanto prevedevamo ed è vero quello che dice Gualtieri oggi sul Corriere della Sera che risparmieremo in 10 anni circa 5 miliardi di interesse. Quindi benissimo perché questi sono soldi che ci servono e che spenderemo a un tasso inferiore a quello del pubblico. Ma c'è un punto che nota oggi forte sul giornale, molto semplice. Ragazzi sono debiti, sono cose che comunque dobbiamo restituire e poi dice forte in maniera diciamo un po' provocatoria, sempre intelligente il professor Forte, ma scusate voi prendiamo i fordissure che hanno comunque un tasso di interesse piuttosto contenuto ma esistente e non vogliamo prendere i soldi del MES, 37 miliardi che hanno tassi di interesse zero perché gli uni secondo voi non ci condizionano quanti gli altri, è evidente che quando prendi soldi da qualcuno qualche garanzia gli devi pur dare. Nel frattempo il sole 24 ore di oggi che cosa ci dice in prima pagina? Che il 70% della cassa integrazione secondo voi l'ha pagata tridico o l'hanno pagata le imprese? Ve lo dico io, le imprese. Le imprese hanno pagato la cassa integrazione e sperano che l'Inps gli ridie indietro i soldi. Il problema è che dice il sole 24 ore non sta ridando indietro nulla, quindi le imprese hanno pagato la cassa integrazione ai propri dipendenti, per il 70% delle imprese hanno pagato i dipendenti e non ricevono i soldi dallo Stato, quindi questi fanno i fichi con faccia vostra per dire, abbiamo dato miliardi e miliardi, no, il 70% di miliardi le hanno date le imprese, voi dovreste ridare le imprese e ancora non le avete i dati. Il mattino di oggi calcola che ci sono 900 articoli, partendo dal governo Letta, di decreti che debbono essere ancora attuati, ci metteranno 6 anni, quindi questi fanno i titoli e poi dopo questi, ma anche quelli precedenti e poi per attuarli ce ne vuole molto. Sallusti se la prende con quel cretino di Berizzi, scusatemi, uno che dice che Verona e i veronesi se la sono meritata, l'ho scritto anche sul sito nicolaporro.it, ha fatto un bellissimo pezzo, Gervasoni se la sono meritata perché sono fascisti, razzisti e negri all'alluvione di ieri, beh insomma Sallusti e Borgonovo, uno sul giornale e l'altro sulla verità, se lo cuscinano come pari, ovviamente gli altri giornali non si indignano, se l'avesse fatto un altro giornalista non di sinistra questa roba non sarebbe passata ovviamente in secondo piano. Voglio vedere se se la prende anche con quelli di Cortina che sono stati alluvionati, se la prende anche con loro magari perché sono ricchi, perché sono in una zona fica, beh insomma è una cosa fantastica, cioè se ci sono dei giornalisti che scrivono e pensano queste cose per me lo possono fare liberamente, però non fate i moralisti quando c'è qualche eterodosso che diventa negozionista soltanto perché non la pensa come Repubblica. Sempre sul giornalismo vi segnalo questo grande scandalo dell'estate perché Gente, la rivista Gente pubblica la foto di Totti e di sua figlia tredicenne Chanel, la quale viene pubblicata con il lato B come si suol dire, cioè Maria Latella così lo chiama. Grande scandalo su tutti i giornali perché i Totti dicono avete utilizzato mia figlia per, dandole un connotato, facendola vedere una bambina, la state rovinando. Sono arrabbiati e non accettano neanche le scuse della direttrice Mosca che alla Latella dice, beh la direttrice dice, la malizia e la volgarità solo in chi la guardia. Noi l'abbiamo pubblicata, era al mare, era in costume, l'abbiamo pubblicata così come è andata al mare, la malizia è soltanto di chi la guardia. Questa dice la direttrice, io non so come la pensate voi, laicamente riporto questa grande diciamo battaglia di fine estate sul lato B della figlia tredicenne di Totti e di Hillary, pubblicata da Gente. Ma la cosa più bella è il Festival di Berlino e voi capite che i cazzoni, i cazzoni non hanno nazionalità. Io pensavo almeno i tedeschi fossero un po' meglio ma ho capito che sono peggio di noi, ma molto peggio di noi. Al Festival di Berlino annunciata una nuova rivoluzione, non ci sarà il premio per la migliore attrice e non ci sarà il premio per il migliore attore perché sono premi che vengono dati al sesso dell'attore e dell'attrice. Quindi non ci deve essere una differenza di genere, questi sono proprio matti, ci deve essere una differenza tra persone che pippano e persone che non pippano, tra persone che si drogano con le siringhe proprio e persone che non si drogano, persone che assumono, se mettono i francobolli sotto la lingua, quelli che non si assumono metanfetamine perché uno che pensa che si debba distinguere, non si possa distinguere tra migliore attore e migliore attrice, veramente ha un pusher di quelli pesanti. A Berlino ci sono evidentemente delle droghe che girano che non sono ancora arrivate nel resto dell'Europa perché è una roba veramente da matti. Detto questo andiamo su cose un po' più serie, due società, poi c'è l'intervista di Ruffini oggi su Repubblica che dice che cambieremo il fisco, insomma l'unica cosa che cambierà, temo, sarà la liquidazione mensile delle imposte sul reddito, spero che non lo faccia noi partite IVA e sennò diventa un disastro. Due cose serie, all'Italia secondo il messaggero sempre segue con attenzione le storie dell'Italia, l'Italia sarebbe più propensa ad arrivare, ciao ad Andrea, ciao al premio Mitu, dice Françoise giustamente a questi cretini di Berlino. All'Italia vorrebbe rimanere nell'alleanza con la Delta, c'è Lufthansa, c'è una senatrice grillina molto amica di Lufthansa, una hostess che è diventata la metra ben sé di tutta l'Italia, la hostess di Alitalia diventata senatrice, vorrebbe che l'Italia andasse con Lufthansa. In realtà è molto più conveniente per Alitalia andare con gli americani di Delta con cui sono già in accordo e soprattutto gli americani avrebbero trattato, avrebbero dato alcune rotte importanti all'Italia. Staremo a vedere, nel frattempo l'Italia ha i conti che ha e sapete che non sono assolutamente buoni. Scandolo di questa biofattoria chic, come la definisce il messaggero, per caporalato. In realtà io ho letto il pezzo di Claudia Guasco, sempre attenta sulla giudiziaria, avrebbero sfruttato i dipendenti, sarebbe stata una cosa scandalosa. Bisogna sempre pensare che quello che esce sui giornali è l'accusa, la difesa in questo momento non ha ancora parlato. Nel frattempo questa società che si chiama Strawberry, biofattoria chic di cui parla oggi il messaggero, gli hanno bloccato i conti, gli hanno sequestrato i mezzi ed è sostanzialmente incapace di lavorare. Vedremo alla fine come finirà questa storia. Direi che per oggi è tutto, vi ricordo il sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata perché ogni giorno ha la sua pena e la miglior vendetta è vivere bene. Ciao!